Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Il famosissimo conduttore televisivo Alfonso Signorini fa una geff assurda al GFVIP, le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli completamente sconvolti per le sue parole . Signorini con Volpe e Bruganelli.In questi ultimi mesi il conduttore televisivo ha riscontrato innumerevoli problemi poiché sono davvero svariate le critiche a lui rivolte Queste ultimi si basano principalmente infatti sulla conduzione del programma televisivo più rinomato di sempre, ovvero il grande fratello Vip Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di assistere ad episodi che mai ci saremmo potuti immaginare Le scene viste non solo all'interno della casa del GFVIP, ma perfino nello studio televisivo, hanno scatenato polemiche infinite Inoltre si vocifera perfino che il presentatore abbia architettato varie dinamiche in collaborazione con gli stessi concorrente, in particolare con Alex Belli Le critiche però arrivano perfino per i suoi interventi, considerati inaccettabili dal pubblico italiano Questa sesta edizione del programma infatti non ha ottenuto gli ascolti desiderati, ascolti che negli anni precedenti sono stati incredibilmente alti Alfonso Signorini GF.Insomma sono vari gli argomenti che lo vedono come protagonista indiscusso, tanto che, anche alcuni volti famosi nel mondo dello spettacolo hanno espresso chiaramente il loro pensiero negativo nei suoi confronti Le polemiche contro di lui però non terminano mai, nelle ultime ore infazzi si è scatenato un putiferio per le parole utilizzate dal conduttore in diretta televisiva Alfonso Signorini Gela Sonia Bruganelli e Adriana Nello studio del GFV Per chi non avesse seguito la scorsa puntata del reality, ebbene, sono accaduti innumerevoli episodi degni di nota Non bisogna dimenticare infatti che più del 40% degli spettatori ha preferito cambiare canale, facendo così colare a piccoli ascolti Al termine della puntata mandata in onda, come se questo non bastasse, il conduttore ha deciso di intervenire facendo una battuta non proprio accettata dai presenti Alfonso con Sonia e Adriana. L'opinionista Sonia ha portato con sé in tutta la durata della diretta, una sorta di feticcio, definito così da lei stessa Salutando tutti i presenti all'interno dello studio e tutti coloro che seguivano il programma televisivo, ha mostrato il tutto L'oggetto ha colto l'attenzione del conduttore, il quale prontamente intervenuto chiedendo alla donna, come lo usasse L'oggetto, usato per mantenere il biglietto fortunato del GFVIP, ha la forma cilindrica ed allungata Insomma, queste sue parole hanno potuto far intendere ben altro, la stessa opinionista è rimasta sconvolta Successivamente però ha rincarato la dose prendendolo e dicendole, tu sai che io ne ho molto bisogno, molto più di te Punto insomma, ad ogni modo il pubblico non è letteralmente impazzito davanti a questo suo intervento Le stesse opinioniste sono rimaste sconvolte ed hanno tentato di cambiare argomentazione salutando così i telespettatori Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video